Parliamo di aeroporto. Beh, l'arlotta di Grottaglie per quanto riguarda i voli passeggeri, i voli civili, grida vendetta. Abbiamo notato da parte della giunta dell'amministrazione regionale uscente un indirizzo, tra virgolette, industrialistico rivolto appunto al nostro scalo Arlotta, la destinazione cargo, l'uso, la destinazione droni, destinazione tra virgolette droni. Far rabbia, no? Pensare che abbiamo l'aeroporto, abbiamo Grottaglie a due passi da Taranto e noi dobbiamo andare a Bari, dobbiamo andare a Brindisi. Qualcuno dice ma è ovvio che ciò avvenga perché l'aeroporto L'Arlotta darebbe fastidio perché andrebbe a succhiare quella clientela Tarantina che necessariamente ora si vede costretta a usare gli scali di Bari e di Brindisi. È un comportamento da parte di aeroporti di Puglia, di Acerno, che non sembra molto dissimile da quello del suo predecessore De Paola con riferimento appunto al fatto che comunque sembra quasi che sia negato, comunque ridotta al lumicino la possibilità dei voli passeggeri. Taranto dista credo una settantina di chilometri sia da Brindisi che da Bari, che sono i due principali aeroporti pugliesi. Ciò però non toglie che l'aeroporto di Grottaglie potrebbe servire anche a collegare almeno alle grandi città italiane tutta un'area che non è solo la provincia di Taranto ma anche il nord. Cercare di trovare con la regione Calabria intese che consentano di strutturare i voli nazionali che sono poi quelli secondo me dei quali i Tarantini hanno maggior bisogno perché capisco bene che le tratte Ryanair sono altrettanto interessanti però avere dei voli stabili per Roma, Milano, Torino, insomma le città più importanti potrebbe già assolvere e peraltro non mi risulta che ci sia una incompatibilità tra le funzioni cargo e le funzioni dei voli di linea. L'aeroporto è sempre lo stesso, funziona con le stesse logiche. È chiaro che ci sono aree destinate al traffico, ovviamente non parlo delle piste, parlo delle aree di servizio che sono destinate al traffico passeggeri e altre che sono invece destinate al traffico cargo. Anche la cosiddetta presenza di questi droni che poi sono gli aerei del futuro, anche quella, non credo che ci siano particolari problemi nel senso che con un'adeguata regolamentazione un grande aeroporto con una pista così poderosa come quella di Grottaglio può svolgere tranquillamente queste funzioni. Io che sono stato lì a parlare con molti soggetti che si occupano di questa vicenda, anche dell'azienda, della Lenia, non ho mai avuto nessun tipo di sensazione di loro diktat contro l'adibizione dell'aeroporto anche a voli di linea. Dunque si tratta di sperimentare le condizioni più che altro economiche e la disponibilità delle compagnie a utilizzare quell'aeroporto. Non c'è nessuna particolare utilità, questo vorrei chiarire, per le città ad avere più o meno voli. Nel senso che, tanto per essere chiari, un aeroporto molto vicino alla città come quello di Bari, con un eccesso di traffico diventa un problema, si congestiona, fa rumore, inquina e quindi non c'è nessuna motivazione per sovraccaricare un aeroporto e non distribuire il traffico su quattro. L'unico limite è quello economico e lì bisogna guardare i numeri e soprattutto vedere chi è disponibile a dare una mano perché ci sono dei privati, anche Ryanair se fosse possibile, che possano dire va bene, noi ci occupiamo noi di questo scalo, ammortizziamo i costi e consentiamo alla regione di avere quattro aeroporti anziché, è chiaro che, però, questo deve essere chiaro, noi questo stesso ragionamento dobbiamo farlo anche con Foggia che è in una condizione ancora peggiore perché Foggia ha una distanza da Bari e ha un solo aeroporto pugliese che è di quasi 150 km, quindi è il doppio della distanza. Presidente, era emersa in più di qualcuno l'idea che l'Arlotta potesse essere il punto nevralgico, non strategico, ai fini appunto, considerando come scalo, per quanto riguarda anche la Puglia, per quanto riguarda l'area ionica e quindi anche la Basilicata e la Calabria. È nato anche un certo discorso con Pittella, governatore della Basilicata, un bell'incontro a Taranto su questo argomento, perché no? Io credo che la Basilicata, come la Calabria, sia interessata a ragionare. Ovviamente non possiamo pensare che loro, diciamo così, ci risolvano tutto il problema. Bisogna, devo dire, con la Basilicata anche ho fatto qualche incontro preliminare, approfittando anche dell'amicizia con il Presidente Pittella e con l'eurodeputato, il capogruppo del Partito Democratico Gianni Pittella, abbiamo già parlato di molte cose, certamente dell'acquedotto bugliese, ma anche dell'aeroporto. Facciamolo a Taranto questo incontro, non per nulla, perché il riferimento di Grottaglie è Taranto, diciamo, no? Proprio a Grottaglie, perché no? So bene che Taranto ha bisogno che lo spogliatoio ricominci a credere nella vittoria, e quindi io ce la metterò tutta, mi sono permesso persino di dire da tifoso del Bari nell'ultima sagra del programma Forza Taranto, che per me insomma non era facilissimo, ma mi riferivo ovviamente a questioni non calcistiche.